Buongiorno, buon mercoledì 18 novembre 2020. Quando mi chiedo cos'è il disagio, cosa succede? Mi vengono in mente tutte le situazioni leggermente deprecabili. Quali possono essere? Uno stato psicologico, una condizione fisica, una compromissione di un'entità, un organo, un fattore esterno persino alla persona che avverte il disagio. Non che è possibile, perché avere il disagio, da avvertire il disagio, sono due cose differenti, spesso fraintendibili. Esempio classico, una persona si dica da uno psichiatra, lo psichiatra capisce, intuisce che chi ha di fronte avverte un disagio, il che spesso è differibile abbastanza, nettamente, da possedere un disagio. Di conseguenza, dato che lo psichiatra non ha mezzi, e non lo vuole ammettere spesso, per il medico psichiatra non ha mezzi, strumenti, per asserire, per affermare onestamente che chi ha di fronte non possiede un disagio, ma bensì avverte una situazione di disagio, tra virgolette, se così si può dire. Un disagio che, dico tra virgolette perché il disagio esterno, quello che non si può dire, può sempre, per quanto possa compromettere la salute psicologica di chi lo avverte, può sempre essere un'entità sulla quale si può intervenire più facilmente, forse. Dico io, quando una cosa la vediamo dall'esterno, è facile giudicarla. Questo, anche per i pazienti, non solo per i medici, funziona così spesso, non sempre. Non sempre, riparisco. Nel senso che, per quanto un disagio possa essere avvertito dall'esterno, cioè, mi spiego meglio, l'entità disturbante si trova nei pressi della persona, non è posseduta organicamente, fisiologicamente, tanto o meno nella indole di chi l'avverte, in senso letterale, proprio. Cosa succede? Che la persona che ne soffre di questa anomalia, di questa se così si può chiamare. Può essere un'anomalia, può essere una tendenza a fare una cosa ripetitiva, può essere, magari, che viene invogliata da una situazione che la persona non riesce a tollerare alla perfezione. Allora, cosa succede? ci sono parecchie strade. O la persona riesce ad esplorare una mappa, una mappatura di tutte le cose che in sé vanno a suzzicare, tra virgolette, vanno a sollecitare, vanno a pizzicare, se così si potrebbe dire, in senso estensivo-metaforico. i feedback quasi autogeni, si potrebbe dire, autogeni, limitatamente a quanto si vengono questi consapevoli, a quando la persona si rende consapevole, la persona stessa, di propriocepire determinati segnali. esterni. Cosa succede? Per feedback non intendo la risposta della persona, i feedback della persona che prova disagio. I feedback esterni, la persona li proprio percepisce, ha la lucidità di proprio percepirli, per ipotesi, no? Cosa succede? Quando una persona è consapevole di quello che le circonda, della precarietà della situazione in cui si trova, e con pazienza cerca di mettersi alla pari del medico che ha di fronte. Spesso questo medico li contraccambia questo atteggiamento, si chiede alla persona col disagio. Oppure il medico ci marcia sull'atteggiamento tra virgolette anomalo della persona che riesce a capire i segnali esterni, i minimi cambiamenti sia interni che esterni a sé. Allora, verrebbe da preoccuparsi quando la persona si rende conto di avere dei limiti sui quali il terapeuta ci marcia. Ma perché io qualche volta ammenesco con queste riflessioni anche con me stesso? Non perché sono paranoide, non per dar ragione alle diagnosi, non per confermare, questo non vuole essere una conferma delle diagnosi che mi vengono stirate assolutamente e io ogni giorno cerco di dare la dimostrazione di questo, ovvero sia che le mie riflessioni per quanto possano essere costituire una visione di chi in qualche maniera è costretto a fare ad opporsi tale opposizione che prima o poi insorgerà dalla mia indole perché vuoi per istinto di sopravvivenza psicologico, vuoi per un tentativo di porre rimedio in maniera autogena perché dico, sottolino in maniera autogena, perché lo sottolineo? lo sottolineo perché sono costretto quasi a sottolinearlo dal momento che ciò che io riconosco in maniera autonoma c'è sempre col prefisso auto non è altro che non dico un merito bensì un'accusa reale qualcosa un'entità reale sulla quale io mi baso e non riesco a far basare il medico nonostante i dati oggettivi quando uno si rende conto di remare in una direzione dov'è che voglia arrivare? qui proprio qui esattamente qui è che il medico fa l'indifferente a chi rema in una direzione dichiarando l'opposto tra l'altro a volte non sempre a volte non sempre per fortuna cosa succede? succede che tutto quello che la persona riesce a proprio cepire tutto quello che riesce a lavorare tutto quello che riesce a trarre di positivo delle proprie risorse lo condivide ma ma cerca di condividerlo però trova sempre le barriere psicologiche in certe circostanze non inventate dalla patologia del paziente attenzione le barriere psicologiche le stereotipizzazioni di mestiere sottolineare perché di mestiere? perché il medico ripeto ci mangia sopra le debolezze del paziente spesso talvolta e questo non me lo invento sottolineo lo sottolineo perché se io mi inventassi questo sarebbe discutibile tutto quello che ho detto finora tutto quello per cui mi imbatto nella mia vita stessa per la mia indipendenza mentale psicologica psicofisica sarebbe relativizzabile tutto quello che io affermo se qualcuno dubitasse fermamente di quello che sto per dire ovvero sia che ci sono medici che vengono messi lì per riscaldare la scrivania la sedia per non rispondere ai citofoni del CSM e gli infermieri prendono esempio a uno si chiede uno si chiede questo al di là di quanto il medico possa marciare in una direzione o meglio possa invitare al paziente ad adagiarsi nelle sue condizioni di precarietà di salute psicologica talvolta addebitandone e allocandone tale compromissione psicologica su un fattore fisiologico solo perché lui è medico e se no non può speculare con la ricerca il ricettario per intenderci deve essere per forza un difetto fisiologico solo che prescrive che prescrive allora succede questo la persona la persona che si ricada al medico gli fa il sorriso dice sto bene dice tutto fluttua non ti preoccupare glielo dice alla madre la persona glielo dice al padre glielo dice a tutto il mondo alla sorella al fratello non vi preoccupare ma lasciate perdere chi può permettersi di dire questo e non essere costretto a prendere certe terapie farmacochimiche che bene o male nella sua vita ha trovato una strada tale che nonostante il disagio etichettato o meno da determinati terapeuti riesce a trovare un compromesso tra la propria posizione di difficoltà chiamiamola così e quello che riuscirebbe a rendere nella propria esperienza o lavorativa o redditizia o di approvvigionamento equo se così si può dire sì o quantomeno tale da permettere alla persona stessa di condurre una vita dignitosa sia economicamente che in senso strettamente personale e mi chiedo come può una persona che sin da minore è stata me lo chiedo e mi do anche la risposta non è una lamentela questa attenzione non è una lamentela come può una persona che sin da minorenne è stata condizionata a dire e prenditi il depakin e prenditi l'aldore e prenditi il rispedale e prenditi il tole e prenditi il senenase e prenditi lo ziprex e prenditi quest'altro prenditi la clozapina e prenditi no è meglio che non continuo come può una persona fare puntura ogni mese fare la cosiddetta terapia perché è un'offesa alle terapie mediche chiamare questi farmaciterapie la prescrizione no assumere la prescrizione regolarmente la persona e va bene sarebbe un'offesa al mondo alla categoria delle terapie mediche obiettivamente questo chiamare certe prescrizioni imposte terapie perché non sono terapie non è che me lo invento io che non sono terapie sono i risultati che quando uno sono nel pianoforte in questi giorni ha un linguaggio più fluido dopo che arriva il giorno prima della puntura riesce a suonare meglio riesce a avere meno dolori all'addome riesce a avere meno manifestazioni esantematiche rossori bruciori sulla penna riesce a cavarsela meglio riesce a connettere meglio i neuroni riesce a essere più celere diretto immediato risoluto efficiente e quant'altro e va bene ma questo vai dal medico dici io sto bene perché mi devo fare la puntura e il medico stai bene perché ti ho fatto fare la puntura grazie chiamo meno male che stai tu che per quel lungo ingarnita mi hai fatto prendere la pensione magari no perché no magari fanno meno male che stai tu se no io che devo fare dice il pazzo a furia di dire quel meno male che stai tu va bene dipende ora da come si dice quel meno male che stai tu cosa intendo un conto è dirlo a caricatura un conto è dirlo perché uno veramente pensa meno male che stai tu è ovvio che quel meno male che stai tu in questo caso è in senso lievemente ironico nel senso che questo meno male che stai tu nella propria retoricità vuole facilmente alludere detto esplicitamente ci sei arrivato tu a dire che io sto bene perché prendo la puntura o quello che sia o per violare qualcos'altro che sia quello qualcos'altro no ho cogi fatto la puntura come trattamento ah ci sei arrivato tu non ci posso arrivare io non ci può arrivare non io 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 ho capito tutto tutto l'inizio ovviamente il paziente capisce tutto tutto l'inizio dalla prima stretta di mano stati sicuro che il paziente non precipisce come lavora tutto il sistema con l'intelligente se lavora se lavora si può chiamare va bene con tutto il rispetto sia per il ruolo dentologico che per la pazienza che qualche volta ci mette l'operatore sanitario ci impiega la buona volontà e va bene nulla da togliere su queste cose comunque col meno male che sei tu vuole aspirare non tanto vedi non tanto alla vuole far focalizzare l'attenzione è bello a volte dirsi meno male che sei tu quando è bello dirselo quando uno la persona che è di fronte ti conosce e ci sta perché no due quando la persona che ti conosce non dico che ti devi apprezzare in tutto e per tutto però ti deve in qualche maniera oltre a sintonizzarsi con te empaticamente ti deve far fluire nella direzione non necessariamente più comoda ma per essere meno perdente nella vita meno outsider per intenderci dico io per quanto bene possa volere un medico psichiatra un paziente questo è un discorso molto ampio e il paziente gli va metti che gli spara una risposta tipo questa che ho detto in questo video meno male che sei tu il paziente no il medico che si sente dire questo che pensa del paziente io non è tanto il pensare che mi preoccupa perché io sono abituato a uscire da quella situazione di segretezza delle mie abitudini nel senso che se io penso che una cosa non mi convince dal punto di vista estigenico lo dico anche a costo di essere mandato a quel paese ma questo dico io che cosa mi caratterizza rispetto a una persona con una diagnosi di psicosi questo voglio capire voglio me lo chiedo ma io ma io che voglio nella vita prima che te lo chiede un altro perché sono bravo a fare le mie domande prima che me le fanno gli altri a prevedere le domande che mi fanno gli altri a un medico un terapeuta se tu vai da un medico psichiatra il medico psichiatra ti chiede Giuseppe qual è il tuo problema e Giuseppe che gli risponde io gli rispondo se tu sei il medico dimmelo tu qual è il problema so che sono un taffanate ma è giusto primo è un segno di fiducia della professionalità del medico da parte di Giuseppe o di un paziente che sia secondo è quasi un test nei confronti del medico per vedere ma il medico realmente ha capito che la persona che è di fronte è una persona degna di essere conosciuta nella misura in cui si pone con equo equa moderazione rispetto nei confronti di chi ha di fronte questo paziente io mi pongo equamente nel senso psicologico e questo mi viene contraccambiato oppure il medico comincia tipicamente a fare delle uscite di mutismo poi sai certi medici ti rispondono ma io non ho la sfera di cristallo allora non è la sfera di cristallo però sei medico e quindi mi puoi dire per quanto tu non possa avere la sfera di cristallo mi puoi dire essendo psichiatra che io problemi non ne ho grossolanamente a livello psicotico a livello di compromissione di della mia salute mentale a chissà quali livelli gravi te la senti di farmi questo regalo in maniera mutacica il medico cosa fa aumenta persino di 25 mg è capitato il 19 dicembre scorso io gli ho raccontato la mia vita le mie passioni le mie inclinazioni i miei hobby quello che fa aumenta di 25 mg e poi vado il 20 gennaio e si trovano 100 mg anziché 75 e va bene gli chiedo ma come se mai si trovano questi 100 mg qua questi 25 però per cosa sono questi 25 mg in più quello che mi risponde mi guarda mi fissa si gira e se ne va e va bene allora dico io il paziente deve essere responsabile quasi delle proprie assunzioni laddove ne sia consapevole laddove ne sia lucido le proprie assunzioni terapeutiche a livello farmacologico deve essere cosciente consapevole consensiente talvolta quando dico talvolta perché dico talvolta perché nella psichiatria si ha quell'autorità spesso e volentieri di non voglio dire di travisare perché certe volte è così si ha quell'auto quel potere si deve avere per deontologia di andare contro la volontà del paziente e l'ho visto sin da quando avevo 5 anni il primo TSO io avevo 5 anni di fronte a Cassacero un TSO e va bene cominciavo a studiare certa gente va bene e va bene bisogna farsene andare per forza bene certe volte anche quando tu cerchi di avere un atteggiamento più che congeniale nei confronti di certa gente certi terapeuti se così si possono chiamare con tutto il rispetto loro come ti contraccambiano la tua la tua voglia di mettersi a loro disposizione o meglio quanto sono disposti a accogliere la la volontà dei pazienti mi chiedo senza farli sentire troppo cavie senza farli sentire troppo la faccia che sto facendo rende molto cioè troppo estranei dal contesto stando al quale il paziente l'utente riesca pressoché debba sentirsi con se stesso degno del proprio ruolo nel rigore stesso della dignità oltre che scientifica per quanto si possano inglobare alcuni pazienti in sperimentazioni scientifiche nel rispetto della dignità interpersonale tra medico e paziente e quando parlo di rispetto della dignità dove voglio arrivare sicuramente un minorenne non può capire come si fanno i soldi subito non può capire come mettere a posto la propria esistenza e quindi scivo all'aiuto di un adulto soprattutto quando un genitore fa i fatti suoi per dire che non ci sta proprio uno non ho detto due allora poi soprattutto quando l'altro genitore quello che accudisce il figlio quello che ci sta sempre non è negazionista di nulla soprattutto nei consigli medici nei consigli clinici anche quelli più spavaldi mi permetto di dire questa questo oggettivo perché talvolta per quanto non possa avere senso negare che esiste un criterio scientifico in rapporto al quale un utente si debba attenere nei confronti del terapeuta c'è da dire che purtroppo ho bisogno avere l'arcuzia non dico di negare il criterio la scientificità il rigore della scienza quanto di capire quanto e come determinate affezioni determinati comportamenti determinate manifestazioni determinati parametri in corrispondenti che corrispondono a determinati parametri queste manifestazioni del comportamento quanto possono ricalcare essere materia di speculazione costituirsi materia di speculazione di agire talvolta non sempre al punto tale da far servire determinate autorità scientifiche al fine non mi va di dire del proprio lucro di un proprio vantaggio va bene ci sta perché non vado a mettere le registrazioni telefoniche a tutti i medici psichiatri allora fin qua ci sia non sono arrivato ancora a questo punto non lo so se arriverò va bene tempo al tempo quello che voglio dimostrare è che non ha bisogno necessariamente di una registrazione interpersonale di quello che avviene in Ternos tra determinate autorità scientifiche della psichiatria dell'Aslan Pat eccetera quant'altro quello che voglio dimostrare lo posso dimostrare a livello di lucidità a livello di lucidità con me stesso con i miei discorsi con i miei scritti con le mie canzoni non ho bisogno di chi mi viene a stuzzicare per far capire che io so rispondere nel pieno della mia consapevolezza della mia lucidità mentale basta un piccolo discorso basta una piccola intervista tra l'altro anche un chiacchiericcio tra una persona e me che uno capisce che io per quanto possa avere i miei problemi le mie disagi le mie difficoltà non ho bisogno di chi mi elemosina quasi a goccioli a goccioli per goccioli intendo col contagocce una una finta supervisione con l'alibi di inquadrarmi in un quadro clinico psichiatrico va bene allora questo me lo sento l'ho sempre percepito sin da quando mio padre mi mise le mani al collo per dire tu o ti prendi la compresse o ti sopprivo ah ho capito tutto è che le cose che si impongono con la forza hanno un tornaconto spesso non hanno sempre il come posso dire lo percepisco perché certe cose che si comunicano tra genitori e figli non si capiscono neanche in un'amicizia che dura vent'anni va bene poi stanno tranquilli le amicizie che durano vent'anni che vanno a risalire e a fare pulizia tra rapporti tra genitori e figli ma queste sono cose ancora più lunghe nella vita nel senso che tempo al tempo ognuno ha il percorso suo i ripensamenti nella vita si hanno voglio dire i ripensamenti ognuno quando fa un torta o un altro si dice la vita è lunga come dice Mimmo dei porcelli avrà tempo per capire pure lui sì 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 tempo al tempo la vita è lunga anche per lui spesso ho segnito io così e va bene dai io che posso dire ora io che posso dire non è non è che voglio fare pubblicità a qualcuno o cattiva pubblicità a qualcun altro non sono qui per questo quello che mi sento di dire è che io Giuseppe non parlo mai per ingigantirmi sugli errori degli altri mai semmai gli do un consiglio eppure spassionale certe volte nel senso che ci metto l'animo soprattutto se vedo che un genitore ti lega alla propria situazione alla propria condizione nella quale uno è il genitore stesso si sente un po' come nell'epoca medievale condizionato ad accettarla allora cosa succede succede questo uno si dice ma il mondo il mondo esiste perché l'uomo deve fare delle iniquità anche a livello psicologico fisiologico stesso perché io ho la ginecomassia non credo che mi facciano bene troppi farmaci uno si chiede tanti fa tante io sin da quando avevo 16 anni faccio tante di quelle domande e mi chiedo poi ma io quando avrò la risposta a queste domande se l'avrò la risposta cioè mi chiedo ragiono sempre lucidamente sono una persona perlopiù con un linguaggio d'azione coerente nel senso che quello che affermo lo voglio portare a termine e quando mi metto in testa che non voglio che sia troppo tardi che avverrà il giorno in cui mi darò delle spiegazioni sul mio conto su quello che mi è stato fatto ovvero il giorno in cui non mi darò quelle giustificazioni tali da riscontrare un oggettivo modus operandi tale da giustificare con rassegnazione e forza quasi determinati provvedimenti nei miei confronti allora sarà troppo tardi ah nel senso che il giorno che io capirò intuirò determinate motivazioni sarà troppo insensato non voglio dire che sarà troppo tardi dire sarà troppo tardi sarebbe come una specie di forzatura di quella come se volessimo forzare gli animi forzare la i propositi l'entità psicologiche stesse al di là delle persone che hanno messo in atto è come se assumesse una certa esacerbazione allora io voglio sedare gli animi non il corpo attenzione non ha senso farmi con le punture di questo non avrò mai tutto voglio sedare sono il primo a sedare gli animi quando vedo che c'è una controversia inutile allora cosa succede cosa succede quando una persona si dice non voglio che sia troppo tardi affinché non possa darmi una spiegazione obiettiva di quello che sto subendo obiettivamente oggettivamente cosa succede inizia a munirsi di strumenti e se uno per quanto si possa munire di strumenti risolutivi o meno della propria situazione non riesce a convincere il terapeuta che la propria vita deve avere un andamento più fluido più più meno impaccioso e poi si accorge che il terapeuta ci marcia persino negli istanti in cui la persona si vuole munire di quegli strumenti criticandoli come patologici e non per giunta per giunta e per giunta vuole tendere sempre quasi non sempre ma quasi sempre a segregare quelle circostanze psicologiche in cui la persona cerca di slanciarsi da quel trampolino per uscire dalla propria segretezza e lo fa in pubblico al medico dice no io andavo a parlare alla scuola con i professori che ti volevano cacciare e tu fai questo a me io a te la risposta faccio questo ed altro perché fino a quando quello che io racconto in pubblico è giusto è avvenuto per come l'ho raccontato io non non sto diffamando nessuna struttura non non mi limiterai mai a a un'azione così meschina mi propongo mi procingo cioè sono propenso semplicemente a mi propendo a raccontare la mia realtà perché se non la racconto in prima persona la mia realtà non ci pensa un terzo a raccontarla e se non ci pensa un terzo a raccontare la mia realtà tantomeno tu potrai avere con la tua prossimica fretta un motivo in più per raccontarla a un quarto a un quinto a un sesto alla società ecco che certe persone come me sono tra virgolette le definisco così non tanto degli outsider perché gli outsider sono quelli che si rassegnano persino a un certo andamento in cui la persona la personalità è destinata a nichilizzarsi ad annientarsi a soccombere a determinati poteri inutili infiziosi come possono per quanto io Giuseppe di Benedetto possa cercare di convincere della mia realtà per quanto possa trovare delle barriere in chi cercherà di ascoltarmi mentre sono propenso a raccontare la mia realtà succede che bisogna distinguere prima di tutto oltre ad augurarmi il meglio bisogna distinguere quando si procura un disservizio a un paziente quando non si è in piena disponibilità di quello che ti chiede la persona di adoperare in quanto professionista in quanto unico nel poter concedere tale vantaggio per il ruolo deontologico che occupa si occupa viene occupato da tale professionista cosa succede io ci metto tutta la buona volontà che senso ha distinguere no non ha senso far differire la buona volontà di un paziente nel descrivere una situazione per così come accade così come è accaduta così come accade senso mi chiedo porre una distinzione tra quella buona volontà terdiversandola mistificandola da parte di un terapeuta quasi fraintendendola ma secondo me per un sempre per quel discorso del tornaconto personale forse non ha senso non ha senso dipingere il paziente in questo cazzo come una persona che tenta di mettere diffamazione sui social o su qualcosa in pubblico sul conto del servizio che si rivela soprattutto quando si rivela un disservizio non so se mi spiego cerco di spiegarmi meglio se un medico fa un disservizio o un infermiere la colpa non è di chi le descrive il fatto per come è accaduto bensì al di là del fatto che io non voglio dare colpa a nessuno il medico anziché continuare a gettare fango sull'accaduto deve porre cambiare la strategia di descrizione dell'accaduto con i buoni propositi come quelli del paziente che ci mette tanta pazienza tanta educazione nelle descrizioni e nel rapportarsi con le situazioni con la pazienza dovrebbe voltare pagina semmai cioè voglio dire voglio dire a me fa piacere che il mio medico mi fa cambiare terapeuti che ben venga ma se questi non si vogliono prendere la responsabilità di diminuirmi il dosaggio differentemente da come dicono nonostante ho ragioni limpidamente posso ragionare limpidamente ah che mi vale avere un terapeuta fra i piedi magari mosso dal con le con i fili da uno che sta al di sopra di questo terapeuta che gestisce una as un ripartimento non ha senso perché dico questo perché purtroppo dove sto io le cose funzionano sempre così nel senso che un paziente descrive una situazione sui social per come è accaduta allora è il paziente che diffama il servizio quando bisognerebbe sottolineare è il paziente che cerca di far riemergere il contesto con i suoi buoni propositi affinché non si ripetano determinate cose allora cosa succede quanto più il paziente mostra questi buoni propositi tanto più viene trattato in maniera fredda con una prossimica distanziata anche psicologica se uno si rende conto che succede questo allora il problema non è più del paziente è del contesto che ha cresciuto il paziente e che vuole non dico inficiare sul contesto del paziente perché il paziente intelligente ha sempre la propria autonomia di pensiero da manifestare verbalmente per quanto il medico possa presentarsi sporadicamente per quanto il medico possa stare lì solo per sottoscrivere il trattamento mensile per quanto il medico possa far finta di niente dico io il paziente ha pur sempre quella voglia di riemergere dalle proprie dai propri cappi al collo che in senso metaforico che gli vengono imposti dal contesto della situazione da dalle riandarsi di determinate mentalità cliniche se così si possono sì così sicuramente un conto è dire da determinati terapeuti perché quando il terapeuta non va non farebbe non fa più dal terapeuta ma riesce solo a stuzzicare una situazione no un conto è stuzzicarla per migliorarla un conto è andare a compromettere le abilità sociali di una persona le proprie inclinazioni di aspirazioni le proprie aspirazioni le proprie inclinazioni il paziente intelligente l'utente intelligente cerca di manifestare le proprie aspirazioni per quanto possano essere incomprese nella maniera più a misura d'uomo nella maniera più pacifica nella maniera più comprensibile nella maniera più spiegata in maniera equa per quanto ripeto possa essere il proprio linguaggio fraintendibile per quanto possa essere caratterizzato da quella etichettatura atta a definirne il tendenzialismo da parte del terapeuta a inquadrare chi ha di fronte in un quadro patologico poi che non sia questo tendenzialismo questa tendenza per alcuni un alibi una motivazione in più per dire tu fai quello che dico io perché l'ho deciso io perché ah poi il paziente si dice perché l'hai deciso tu e poi il medico dice perché ho le competenze ah poi il paziente si chiede ma che competenze puoi mai avere se stai e non ci stai con te prima che con gli altri se ti vidi ogni tanto da solo figurati se ti dimostra degli altri se la maggior parte sei assente del tempo dalla struttura se che competenze puoi mai espletare si chiede il paziente dimmi esplicitamente che è tutto un gioco di consapevolezze legate al potere al potere allora il paziente si mette l'anima in pace non è che il medico può dire sì io ti tengo qua perché ci guadagno perché ci perché ci speculo perché ho un tornaconto mio per un vantaggio mio perché sto male voglio capire come si sta male perché voglio essere aiutato io perché voglio essere il medico non te lo può mai dire una cosa del genere a meno che non è sincero e vado trovando il medico che ragiona in maniera sincera non so se la mia è un'utopia non so se la mia se quello che cerco io nell'espressione di un medico che si pone alla pari è un qualcosa di come posso dire inafferrabile quasi inconsueto quanto non dico inafferrabile cioè come si dice in certe volte in alcuni non no in alcuni motti di chi fa le bonifiche che mettono quelli che pubblicizzano vari no mi ricordo se erano di war cioè voglio dire che cosa è impossibile al giorno ad oggi se non quello che uno non prova di propria iniziativa a non voler imbarcamenarsi a sperimentare tante cose sono possibili alla fine dico io dico io fin troppe se un paziente vuole essere stimolato da un medico psichiatra con dei farmaci perché rischia se no di rimanere in una situazione passiva se no retrograda addirittura permanente della propria condizione psichica o psichiatrica come si vuole dire va da sé che il medico deve dare proprio degli stimoli delle iniziative non deve dire vai al centro di urno dove il centro di urno scopula nella stanza e basta poi finiscono la giornata ma per intenderci alla fine quello che voglio dire io possono pure copulare nella stanza ma poi non devono andare a dire dal paziente che il paziente è patologico solo per delle fantasie che gli sono venute con un'educatrice che sia o davanti a un paziente che sa esporsi con educazione con moderazione nelle proprie propensioni psicologiche di pensiero di aspirazione di ispirazione ma l'aspirazione parlare di aspirazione con certe persone già l'ispirazione non te l'ascoltano non te la non te la considerano per quel tre secondi che gliene parli che tra etichettano più tu vai a parlare di un'aspirazione come se vai dal ladro o dal sì da un filibustiere a dire senti lo sai che tu mi regali ho sognato che tu mi regali tutto il doppio di quello che ho in casa quello che ti risponde scusa è la stessa cosa che vai dal medico psichiatra e gli dici vedi tu mi devi scalare la terapia e quello che mangio io ti risponde se tutti i pazienti se ne vanno non fanno la terapia ma questo è anche vero bisogna vederlo in quest'ottica dai c'è il medico psichiatra che sa come ovviare agli introiti di pazienti come me e c'è il medico psichiatra che non ha altre alternative per vivere con sé un po' come un disperato ragioniere che sta davanti al computer a fare sempre a digitare sempre non è diverso il mestiere dello psichiatra per certi versi certe volte nel senso che hanno così la mentalità criptata certe volte che non sempre sottolineo certe volte mi piace sottolineare certe volte perché non mi preservo la possibilità di poter incontrare un giorno un medico psichiatra che mi dice Giuseppe facciamo quello che ti è più opportuno facciamo quello che ti è più spontaneo a sorbire che ti è più che sopporti più facilmente che facciamo quello che tu ti aiuto a fare quello che ti piace fare punto lo incontrerò una volta non me la voglio preservare questa possibilità ma non sarebbe neanche lineare con me stesso corrente dire che non esiste un medico che mi farà questo perché non li conosco tutti e fino a quando non li conoscerò tutti quelli in Italia non potrò dire che non ce n'è una parte che vada la mia che appoggi la mia corrente di pensiero che possa soddisfare in qualche maniera ma è normale che così se io vado da un macellaio e vedo che il macellaio conserva essere al killer non posso etichettare tutti gli altri macellai così vale per il medico psichiatra allora cosa succede loro sono bravi ad etichettare sui pazienti ma io di meno di loro etichetto allora so per dire che non etichetto proprio perché se etichetto io e si mette un pensiero in testa sono peggio di loro nel senso che per quanto loro possano limitarsi a darmi determinati farmaci sempre nel bene se me lo mette fisso io un pensiero in testa non come schema mentale pensi l'etichettatura è brutta da dire ma arrivano lì alcuni medici psichiatri se io mi prepongo che una situazione mi va male dall'inizio e continuo a andare male negli anni è ovvio che mi munisco di miei strumenti mi cerco di ovviare a certe insolvenze che possano arrecare dispiacere anche la mia famiglia per quanto riguarda il mio stato iniziale subito dopo la puntura e quant'altro per fare questo ho bisogno di persone che sono di un'apertura mentale splendida come la mia non per mancanza di modestia ma ho fatto dei test neuropsicologici e una ottima capacità di shifting è riuscito negli risultati ovvio di cambio della strategia perché quando una strategia non funziona io capisco che devo cambiare metodo non insistono sempre su quel versante allora non voglio dire che sono più intelligente di molti medici psichiatri ma lo lascio sapete l'intelligenza è una cosa un po' sia utile da avere nella vita ma giudicare una persona intelligente può far attingere a quell'ambito in cui far saggiare quelle circostanze in cui l'intelligenza in sé non basta se non viene applicata quasi magari uno anche uno può essere il più ricco del mondo delle risorse psicologiche può essere il più ma anche materialmente non vuol dire che dà pure agli altri non vuol dire che riesce a condividere meglio che ha quell'abilità di contemperare al meglio quello che ha per condividere e saperne trarre il meglio al fine di trarre il meglio dalla collaborazione con gli altri allora questa è una parola importante la collaborazione che non sia su una parola messa all'aria così campata in aria allora per 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 avere un grande spirito di collaborazione bisogna essere intelligenti bisogna essere aperti agli altri non bisogna etichettare sicuramente generalizzare non bisogna ingigantire le cose loffie trasponendole su un piano clinico di gravità risibile certe volte perché io non ho mai avuto allucinazioni però ho la diagnosi che ho al GSM al GSPDC e quant'altro allora io dico una cosa io dico una cosa poi sta quello il medico che dice sì ma anche se non hai le allucinazioni non vuol dire che devi avere per forza l'allucinazione con quella diagnosi però il medico lo sa il medico lo sa il medico lo sa di qua il medico lo sa di là il medico lo sa sempre ma il medico alla fine ti rendi conto che sa meno di chi sa meno nel quartiere è normale che sia così perché alla fine il medico se viene se si adatto nella sua comfort zone ripeto nel non voler aprire la porta nel non voler visitare a questo punto a questo punto se lui deve andare con i paraocchi io mi rendo conto che va sempre con i paraocchi anche nelle prescrizioni non mi risulta difficile dirlo a un altro dirlo su un socio che ben venga se loro poi hanno vogliono testimoniare che non fanno quello che ho appena detto mettessero le telecamere tanto di telecamere mi fanno vedere che lavoro svolgono perché no lo fanno io poi dico alzo mano e dico avete lavorato ma se loro stanno lì a copulare oppure stanno lì a non voler rispondere al telefono a non voler fissare gli appuntamenti o a stento magari a fissarli a stento a chiamare i pazienti quando se ne scordano di dare il biglietto del ministro successivo ah dico io belli e non lo sapete solo voi come si fanno a guadagnare i soldi con le braccia concerti lo sanno un po' tutti che bello fare così allora lo fate voi perché ve lo potete permettere ma perché ve lo potete permettere qui c'è sempre una domanda e c'è sempre una risposta forse perché conosciete qualche politico nella zona e perché io devo votare quel politico poi alle elezioni scusa come vi dice mia madre se stai tu nelle fici dice mia madre ma nessuno ti viene a salvare e perché io devo salvare la facciata di quel politico non ha senso neanche questo allora a tutto c'è una risposta nella vita io sono convinto e a me piace trovare le risposte forse perché mi sono state negate forse perché continuano ad essermi negate forse perché conviene negarmele forse perché l'economia dell'Inx ci marcia dietro a queste risposte negate oltre a quella della sanità allora io alzo mano e dico come va va ma io dico la verità sempre è un interrogativo quello che mi sono posto cioè voglio dire quello che va al di fuori del contesto che pongo sotto continua analisi ovviamente quello dell'Inx quello della della del dello stile psicoattitudinale dei tornaconti legati a come si girano le persone quando si alzano al mattino hanno un certo potere come gli salta in mente di quello che vogliono fare no allora io dico io a 30 anni sono abituato a stare in questa situazione e mi rendo conto che chi invita i pazienti la clientela i pazienti l'utenza a stare a marciare in questa situazione in queste tipi di questo tipo di situazioni lo fa perché lo fa è un altro grosso interrogativo lo posso rispondere per me non per quello che riguarda un altro paziente quando interroghi i pazienti che vanno in quelle strutture oltre a risponderti in maniera come posso dire rassegnata negativista pessimista sulla loro condizione autocognizione del loro ruolo in quelle circostanze in quegli luoghi in quelle strutture psichiatriche non hanno quella capacità di invertire la visuale di far capire che se il medico ti ha prescritto il farmaco non è perché tu ne hai bisogno per forza per quanto lui possa averti scritto che tu ne abbia bisogno per forza prova a invertire la visuale di quei pazienti che incontro all'ingresso del CSM e prova a vedere per favore è il medico che ha bisogno di dirti che tu hai bisogno per forza di quel farmaco o sei tu che hai bisogno di quel farmaco la prima o la seconda poi lui ti risponde beh vedi non lo so se forse un po' e un po' e va bene però io non posso stare senza e ma se tu non puoi stare senza perché ti sei abituato sì sì sono abituato ti risponde l'altro paziente allora quello che dico io se tu sei abituato a capire che non ne puoi fare senza non ne puoi fare a meno è perché te lo dicono anche magari i tuoi familiari e quindi può dire contestualizzato si vuole farsi in modo che tu debba attingere per forza necessariamente o necessariamente a certe sostanze allora lui ti risponde le ho fatti questi dialoghi li ho anche registrati quello ti risponde è che ci posso fare se sono abituato se poi sto male come ma è un interrogativo tu non lo sai se stai male ma di cosa stai parlando vuoi forse mescolare le tue esperienze negative del passato non riconoscendo le opportunità perché un po' come quando Tiziano Ferro con una canzone che gli canta canta così il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai non sono altro quei pazienti alcuni pazienti alcuni utenti di certe strutture per come lo per i risultati che traggo dalle miei dialoghi con alcuni un'assicurazione per il protezionismo del ruolo di tali medici in tali strutture perché dico questo è normale mettono gli incubi nel paziente quasi gli fanno prendere uno stress post-traumatico al paziente affinché appena lui dice la sua lo devono etichettare lo devono far creare delle congetture sulle congetture del paziente a uno poi si dice ma qua chi sta peggio il paziente scusa e no non per farne una questione personale ma anche per come vedo che vengono trattati gli altri perché gli altri che dicono no io non giudico il medico perché mio padre fa il medico in una struttura un certo Filippo che frequenta il CSM ah io gli dico Filippo del curato io gli dico vedi che tuo padre fa il medico e c'è troppo a codardi a te i medici dice un'altra persona e va bene non ci interessa ma tu devi analizzare la tua vita prendere atto di quello che ti è capitato nella tua vita nella tua esistenza per fare il meglio allora se tu non inizi a scendere quello che è stato bello quello che è stato brutto quello che è stato metà e metà quello che è stato positivo quello che è stato da ripetere quello che non si dovrà più ripetere fai il gioco di chi vuole proteggere il proprio luogo il proprio mantenimento della propria posizione lavorativa sfruttando il disagio altrui vivendo su quel mestiere che dà adito di trarne un profitto da chi sta provando quel disagio imposto sul paziente non un disagio capitato un disagio imposto perché c'è differenza tra disagio imposto e disagio capitato malvolentieri per sfortuna per caso al di là del fatto che si dice che nulla accada per caso va bene tutto quello che ho detto ora cercare le risposte non farsi abbindolare dal dalle congetture create dai medici come si quasi come provocazione sulla sofferenza altrui dai costrutti sulle congetture dai costrutti imposti dai medici sulle congetture magari anche sbagliate o meno non importa dei pazienti stanno tutti questi argomenti stanno ad indicare la mia voglia di adempiere una certa autonomia di pensiero che non mi vada domani a condizionare da a rendermi influenzabile minimamente a sottostare determinate imposizioni è ovvio che per chi lo sentirebbe la terapeuta direbbe che tutto quello che ho detto finora è un delirio perché lo direbbe anche se disgustevole come cosa serve un po' disgustevole primo perché io ho una diagnosi e quindi sono stato già etichettato secondo perché se io ragiono bene lui afferma che io non delirio poi che dice sono falso come professionista e no poi si fa una facciata una reputazione che non dovrebbe perché tutto alla fine sono dei come si potrebbe dire dei delle persone che parlano più a vuoto magari di quello che ho raccontato io finora per quanto possa essere se il ragionamento che ho fatto finora ma disaccettato e di conseguenza oltre a parlare a vuoto hanno quella presunzione di dire affermare che dato che io ho una diagnosi quello che ho detto finora se non è a convenienza a loro neanche un po' è da è da è da è da sovvertire nel significato nella significanza non nel significato nella vedete quando mi si dice che io non posso entrare nel merito del lavoro svolto da determinate figure io giuseppe dico nel merito non ci entro ma lo dico mentalmente ma nella forma posso pure entrarci ci posso pure entrare nella forma perché io dubito che stia dicendo delle cose menzognere in questo mio filmato per no non è che dubito che stia dicendo delle cose menzognere dubito che qualcuno possa reputare universalmente cioè che qualcuno possa non dubitare assolutamente che io stia dicendo le cose così come stanno e di conseguenza spero nella parte di chi crede in quello che sto dicendo perché se c'è chi dubita c'è anche chi non dubita no e va bene dopodiché è vero che fa male prendere la vita così come afferrarla e dire vedi Giuseppe tu stai perdendo tempo con me come terapeuta però non conviene al terapeuta di una cosa del genere di conseguenza io devo dire tu sei medico io non sono medico quindi io mi faccio la puntura solo perché non ho il pezzo di carta che hai tu anche se tu con quel pezzo di carta non puoi assumere chissà quale credibilità tale da dire che tu con quel pezzo di carta puoi fare ciò per cui quel pezzo di carta per l'antanoma ti abiliterebbe a risolvere a ottemperare a far progredire a far migliorare stando all'esperienza perché dico tutto questo non per sfigurare qualcuno pubblicamente o privatamente a seconda della destinazione di questo filmato che non conosco attualmente perché dico questo io dico questo perché così come non mi faccio grande sugli errori altrui o sulle mancanze altrui non voglio che qualcuno si debba fare grande su dei miei piccoli difetti che possono essere atti ripetitivi o possono essere cose da poco ingigantendole perché dico questo perché dico questo perché mi capita forse e se mi capita questo e chiedo aiuto qualcuno me lo dà l'aiuto mia madre dice no se tu stai nelle fici rimani nelle fici eppure io ci provo a chiedere aiuto ci provo a fare i primi passi ci provo a parlare con i politici anche se non mi rispondono mai sui social allora che succede Giuseppe dimmi tu che succede se i politici non ti rispondono ti devi fare un scoraggiare assolutamente no perché capisco benissimo che la mia persona io sono libero da un contesto fino a quando riconosco di avere la capacità le abilità gli strumenti e la possibilità di rendermi indipendente di trovare alternative a determinate scelte a determinate prospettive la prospettiva no è una cosa fondamentale si dice no diceva John Keatings che il bello quello che mi ricordo sommariamente era quello che diceva nella frase del film L'attimo fuggente era una frase sul valore sulla significato sul senso che si dà a una situazione un contesto dell'indipendenza nel saper vedere le cose da più prospettive da più punti di vista e proprio quando ci sforziamo di vedere oltre quello che ci sembra una barriera che ci sembra un ostacolo che ci sembra un impedimento che questo ostacolo questa barriera questo impedimento può serbare di meno negli animi rassegnati che si vedono nelle circostanze di chi ha un disagio che non dipende dal proprio organo pensante che non dipende da 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 ciò che è interno alla persona ma che la persona inevitabilmente avverte è costretta ad avvertire magari vedendolo non sempre come una minaccia ma come un motivo per fare meglio in futuro come un motivo per trovare un accordo non con non tanto con la riluttanza in sé l'indisponibilità bensì di chi costeggia la persona bensì chi quello che voglio dire è che chi vede le cose in diverse prospettive ce l'ha una fortuna e chi è intelligente che sa vedere le cose in diverse prospettive una fortuna ce l'ha che va al di là del senso critico in sé che si costruisce della propria cultura della propria credenza ce l'ha più che una fortuna più che una possibilità è proprio qualcosa che ha a che fare quasi con l'indole della persona per come la vedo io quando io mi fermo cerco di non rispondere nella stessa lunghezza cosa mi succede mi blocco non mi blocco sono patologico neanche succede questo che io ritengo me stesso un essere idoneo oltre che idoneo anche anche oltre che idoneo anche capace di far fronte alle esigenze contestuali nel migliore dei modi al punto tale al punto tale da essere cosciente e non basta essere cosciente da mettere in atto dopo che sono mi rendo cosciente di avere queste risorse vedo le alternative vedo le possibilità scruto i risvolti possibili e di conseguenza scelgo la maniera per ovviare agli impedimenti per aggiudicarmi la migliore di quelle possibilità quando ti è concesso e quando uno ti mette i paletti che facciamo io mi sforzo non dico che devo vendermi per non essere messo i paletti perché se arriva qua si ha quella concezione nel senso che il medico che dice se non butti mia moglie niente più certificate mi fa così con questi gesti si dico un po' giocherellone ma ti fa capire i compromessi della vita quali sono non tutti si possono trovare una situazione erosea dal punto di vista economico non tutti si possono trovare in un contesto in cui si può non fare a meno di chiedere un aiuto altrui ma dico io quando questo aiuto che si chiede a un'altra persona diventa un vincolo diventa sinonimo di atteggiamento troppo despotico nei confronti di chi debba subirlo troppo manipolatorio troppo troppo persistente nei confronti di chi cerca un supporto e non una sostituzione al proprio giudizio al proprio senso critico cosa succede in questo caso il paziente intelligente se ne accorge che lui si adopera con pazienza a trovare tutte le strade possibili anche quelle più impensabili per uscirne dalla propria situazione ma quando categoricamente si vede un medico messo come un palo a fare la prescrizione la prescrizione la dico io scriviamo alla cina ci facciamo avere dei robot almeno non mettiamo a voi come pali a prescrivere gli antipsicotici perché no perché no quando si intende si intende ad operare delle risorse umanistiche psicologiche morali le situazioni si fanno ben diverse da chi sta lì per lucro e non per aiutare chi ne ha bisogno detto questo io non ci tengo non faccio questo video perché esigo di manifestare la parte migliore di me in questo frangente perché questa parte che avete visto che avete ascoltato di me la penso ogni mattina che mi alzo e se la penso ogni mattina che mi alzo dopo che faccio la puntura la penso anche i giorni distanti dalla puntura la penserò sempre se uno nella vita si pone l'obiettivo di non essere un perdente in maniera categorica schematizzato dentro le etichettature di un caso clinico che fa comodo per lo più a chi deve arricchirsi per mestiere cosa succede cosa succede cosa succede cosa succede per la quale determinate strutture determinati organi si dovrebbero essere preposti e disposti nell'andare incontro alle esigenze di chi soffre di un disagio di chi ha una difficoltà quando quando questo viene meno non è un Giuseppe che sta diffamando la struttura ma sono gli operatori in primis che dicono noi rifiutiamo di fare quello per cui siamo stati preposti in senso esplicito con le omissioni con le mancanze con la prossemica fredda con tutti i modus operandi possibili immaginabili che discostano dal discorso che ha appena fatto di chi vuole ambire a trovare delle possibilità nelle strategie di uscita dai disagi anziché di incastro nei disagi va da sé che se un Giuseppe ha l'intelligenza di affermare questo non ti preoccupare mamma non è perché vuole stare nelle fici e perché vuole uscirne per quanto i terapeuti ai terapeuti possa convenire che un Giuseppe rimanga in questa situazione un Giuseppe un Filippo un chi che sia detto questo buona giornata e quando un terapeuta mi vorrà parlare per diminuirmi il long acting di Aldo gli dirò grazie perché stai facendo più che il tuo mestiere ma finora non glielo posso dire che sta facendo il proprio mestiere con tutto con tanto di cappello e con tanto di rispetto nei confronti di tali persone prima valutati come persone prima che professionisti prima che come professionisti detto questo vi auguro una buona giornata aciò 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 aciò